sapete che io vi c'è il trigger proprio l'oliamo alla follia con la lettera O devi essere qui ora per rilassarti ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 voglio fare un video che faccio di solito una volta all'anno che è la challenge dell'alfabeto challenge dalla A alla Z quindi ci saranno 21 suoni o comunque 21 trigger legati ognuno a una lettera sarà un video lungo però mi piace comunque girarlo appunto una volta all'anno ed è un po' anche questa una tradizione quindi io comincerei subito senza perdermi in chiacchiere come al solito però se c'è qualche trigger in particolare che vi ha colpito se volete scrivermi nei commenti il vostro trigger preferito sapete che lasciami un commentino è sempre utile per me e l'apprezzo tanto o se volete lasciate anche solo un bel mi piace il video grazie mille cominciamo con la lettera A ammetto che non sa non sapevo decidere però alla fine ho scelto il trigger comunque le parole andrà tutto bene così per iniziare bene il video così per iniziare bene il video andrà tutto tutto bene andrà tutto 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 bene adesso sei qui con me non devi pensare al passato non devi pensare al futuro devi essere qui ora e rilassarti perché andrà tutto 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 bene andrà tutto tutto bene andrà tutto tutto bene andrà tutto tutto bene rallenta il tuo respiro prenditi questo momento per te e solo per te andrà tutto 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 bene andrà tutto 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 bene in questo esatto momento va tutto 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 bene e ora siamo decisamente pronti abbiamo decisamente il mood per vederci questo video e questa ora di relax spero che la lettera A vi sia piaciuta e ora passiamo alla lettera B abbiamo il barattolo abbiamo il barattolo questo non me lo facevo sentire da un po' tipo un barattolo magico che cambia suono tipo un barattolo magico che cambia suono io ora la lettera B e questo è solo il barattolo io adoro bollemente questo trigger io adoro io adoro io adoro io adoro la lettera C ho voluto sperimentare diciamo così è un trigger che qualcuno piace qualcuno no comunque vi avrò messo tutte le lettere dalla A alla Z in descrizione quindi se qualcosa non vi piace potete saltarle e passare al trigger successivo per la lettera C ho deciso di mettere il canto perché so che a alcune persone piace ma quest'anno non ci ho dedicato un video diciamo sul canto quindi volevo dedicarci almeno uno spazietto in questo video in questo video diciamo è anche fatto un pochino per sperimentare cosa piace cosa piace cosa non piace in particolare in questo periodo io sono ossessionata dalla canzone di Emily in Paris quella che si chiama Rovince e ne canteremo un pezzettino ignoriamo il mio inglese ok passiamoci sopra Sì 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 in the room in the world and darling turn to the hour goes it's wonderful but wonderful nothing tries you can't be so go ahead and say goodbye cause there's an empire in the mind and I can build it all again it's the grind that reminds us we're alive it's the grass that left us hiding sometimes the eyes that I can see the diamonds in the dark i 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 aiuta tanto quando sono un pochino in ansia agitata devo un attimo ritornare e calmarmi centrarmi vado e mi immagino di essere nel mio posto sicuro il il posto sicuro è qualunque posto in cui voi vi sentite nella calma più totale in pace con voi stessi è tutto perfetto e voi siete proprio in pace nella calma totale sereni quindi cercherò di guidarti non sono professionista ma proverò a guidarti prendilo come comunque rilassamento non prenderlo come terapia ok allora adesso fai delle respiro profondi se riesci cerca di appoggiare le mani su una superficie la radice e i piedi a terra o comunque appoggia la radice dei piedi in modo che sia ben radicata se vuoi chiudi gli occhi se sarebbe meglio che chiudessi gli occhi e ora cerca di immaginare un posto in cui in cui non hai in cui ti senti al sicuro in cui non hai nessun pensiero in cui sei a tuo agio al 100% in cui sei sereno in cui sì ti senti completamente al sicuro e protetto protetta da tutto puoi essere da solo da sola puoi essere in compagnia di qualcuno con un animale è il tuo posto sicuro il tu puoi scegliere come può essere puoi essere a casa puoi essere in un posto immaginario puoi essere sulla spiazza in montagna in un bosco in una camera d'albergo puoi essere dove vuoi può essere un posto in cui sei già stato o un posto in cui ti immagini essere perfetto per me può essere uno sciogli di montagna col cammino mentre fuori piove nevica e ora chi hai visualizzato questo posto magari con chi sei visualizza guarda bene intorno visualizza tutti tutti intorno che cosa vedi cerca di mettere a fuoco tutto ciò che vedi ti senti osservando i colori i movimenti nel caso e dopo aver visto bene che cosa ti circonda adesso senti i suoni di questo posto può essere il suono delle onde nel mare può essere il suono del vento fuori può essere il suono del camino possono essere i suoni degli uccellini quello che vuoi cerca proprio di sentire tutti i suoni che senti ogni suono che viene da ogni oggetto ogni paesaggio intorno adesso dopo aver analizzato la vista e l'udito passiamo all'olfatto chi odore c'è? hai qualcosa in mano? stai facendo qualche attività in particolare? cosa senti sul tuo corpo se hai abbracciato qualcuno? hai un libro in mano? hai un artisano in mano? stai accarezzando qualcosa? e insieme a questo accarezza che cosa hai indosso ora? qualcosa di comodo magari? magari qualcosa di adatto a quel luogo? quindi senti che sensazione se tocchi ciò che indossi o ciò che hai sopra senti la sensazione che dà sulle tue mani ok e senti la temperatura che c'è in questa stanza e ora infine manca il gusto nel caso stai mangiando qualcosa ti stai gustando qualcosa nel caso appunto cerca di sentire anche questo senso sei attivato e adesso unisci tutto e prendi dei perispiri qui e cerca di e cerca di starci un pochino ok facciamo 5 respiri qui e poi pian piano riapriamo gli occhi se vuoi puoi scrivere che posto era anche senza entrare nei dettagli ok o semplicemente che attività stavi facendo ad esempio per me a leggere un libro sul Kindle e nel momento a carezzare il mio cane quindi facciamo 5 respiri qui concentrati tutti i sensi che sentono vedono percepiscono ciò che è intorno a un attenzione a un ok ok apriamo pian piano gli occhi e magari questo posto ogni volta che dovrai ricentrarti o ti sentirei in difficoltà ti puoi prendere 5 minuti per tornare qui e rastrenarti ok ora con la F abbiamo un fidget cube questo che mi aveva mostrato nel video contro lo stress ascoltiamo un pochino dei suoni che fa questo fidget cube ok quindi fatto così e quasi tutti i lati hanno appunto dei suoni o comunque dei tastini per rilassare diciamo così togliere lo stress tenere in movimento le dita cominciamo da questo che è tipo un tasto che si muove in modo circolare che devo dire che però va da soddisfazione sentono un po' le molle sentono un po' le molle ok qui c'è un interruttore che non so se il rumore mi piacerà e invece si può avere il suo perché può avere il suo perché proviamoli entrambi se ci riesco no non ci riesco abbiamo abbiamo poi queste tre rotelline se mi fa il piacere metterle a poco ok e questa sfera qui quindi uno due tre e quattro e una chiamata una chiamata solo fanno 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 abbiamo poi questi 5 tastini qui e poi ve lo farei sentire dopo, subito dopo, anche questo cerchio che si gira in questo modo vedete qui c'è un puntino espressore che ti aiuta a girarlo in modo orario o anti-orario quindi tastini c'è uno che non fa rumore due che non fanno rumore però sono fatti apposta ok e questo qual è il più carino forse alla fine? il rumore più carino da questo? questi F come fidget cube fidget cube fidget cube fidget cube fidget cube per la c la lettera c abbiamo quanti? quanto? grande classico ma io adoro questo suono proprio lo amo fidget cube fidget cube fidget cube min站 è chiusi che connectionsi non questo che è ? f Grazie. 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 Pondige. Inge. Maggi. And... Inge. Ok. Bellissimo. L'avrei fatto per altra mezz'ora. Cioè... Lo farei per ore ma... Sono già mezz'ora di girato e siamo solo a lettera G. Ok. La lettera H non poteva che essere... In questo ti guiderò un pochino con le parole. Però la cosa importante è... Osservare... Il movimento... Lento... 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 Delle... Delle mie... Mani... 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 Eccoci qua. Questa... E' una delle poche eccezioni che mi sono concessa per questo video. Che senso? Che senso? Per... Pochi... Trigger... Mi sono concessa di usare una parola in inglese. Perché... Vabbè... Soprattutto... Con la lettera... H... Non ci sarei salto a cuore. Non ci sarei salto a cuore. Vorrei rifare... Tra un po' di tempo anche un nuovo video di mouth sounds e movements. Perché è veramente ipnotico... 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 Io amo l'indmovement... Io amo l'indmovement... Io... Di... 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 Dago adesso... No... Ehm... Ehm... che per me la più brava in Italia con questo trigger è Giulia Grasso ASMR che non fa video spessissimo però quando li fa mamma mia e lei fa degli hand movements? mamma mia ragazzi incredibili volevo provare l'ultimo ma non mi ricordo cosa volevo provare fatemi pensare non mi ricordo comunque nei prossimi mesi ritornerà un video di hand movements e mouth sounds ah si me lo so ricordato aspettate questi qui mi ricordo bene come erano me li dovrei riguardare che gusto mi piace sapete che io vi c'è il trigger proprio diamo alla follia ok solo a vedermi nello schermo mi stavo addormentando aiuto di solito non mi capita spesso di avere sonno mentre registro video ASMR ma stasera sono rilassatissima mi stanno piacendo un sacco tutti i suoni comunque per la lettera I io vi giuro ho cercato qualcosa di diverso da inaudible ma ogni volta non mi convinceva quindi vi farò di inaudible e leggerò una cosa annoiosissima quindi non cercate neanche di capire cosa dirò perché vi giuro leggerò letteralmente le risorse agricole della Polonia e dell'Austria non sto scherzando su questo libro di geografia politica fidatevi non mi interessa ok ok Grazie a tutti a presto giusto già viva 55 28 29 31 39 39 35 40 50 25 5 59 40 45 45 45 40 59 50 91 4-5-6-4-5-6-5-7-945-2-7-9-9 4.8-8-9-8-0-1-0-migli 4-9-8-0-o-n-7-8-8-0-%pardiglio 3,5% 4,7% 5,7% 10,8% 9,7% 7,8% 9,7% 9,7% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 5,7% 8,8% 8,8% 8,8% 8,9% 8,9% 9,9% 9,9% 10,9% 3,9% 3,9% 1,8% 8,5% 9,9% 8,9% 9,9% 9,9% 9,9% le bronze, le sopravviveci le sopravviveci le sopravviveci le 880 ertanto nela per 4 nuit le pomegranate nel mnulino il nuntemco faccio molte 160 130 ayeran 150 15 40 41 42 42 41 corna 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Spero che anche questo inatipo vi sia piaciuto, è l'inatipo il più strano che abbia mai fatto, invece ho fatto una cosa così insulsa, letteralmente è un elecco dei numero di bufini della Bologna nel 1972, più random di così, non penso di poterlo trovare, comunque, letteralmente quando mi dite a me lo saranno anche se leggessi uno scontro nella spesa, ancora peggio Per la lettera L abbiamo, e qui non mi sono potuta esimere da questo trigger, le luci, in particolare abbiamo le pacchette luminose, ma poi fatemele passare come luci più o meno abbassiamo un pochino le luci qui E adesso facciamo un pochino di rilassamento guidato con le luci, ok? Quindi, adesso, segui solo questa luce, ok? Io le muoverò in troppo, ma devi seguire questa qui, ok? Ok, vai Segui, 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 segui solo la luce che ti ho indicato Non ti far distrarre, mi raccomando, mi raccomando Ci stai riuscendo Ci stai riuscendo Ok Adesso le pacchette saranno così Segui ancora questa luce, ok? Ok Se ti perdi, fatti guidare dalla mano che è in mano alla luce Ok Ok Eccoci qui Eccoci qui Ho detto di... Guardare Questo punto qui dello schermo, ok? Mentre faccio girare le luci tutte intorno a te Ma tu guarda solo questo punto Questo punto qui E nient'altro, ok? Diffici il tuo sguardo qui anche quando lo copro va che il tuo sguardo li manca lì molto bene ancora un pochino perfetto adoro queste luci anche queste dai, torneranno presto attenzione che rialzo un attimo la luce ci devo ripituare anch'io con la M ero indeciso se fare note sounds o mani suono delle mani provi di che note sounds a fine a volte ce la dico dei video interi invece suono delle mani a volte l'ho sentita solo all'inizio video quindi ci si fare con la M il suono delle mani mi adoro questo mi adoro a tutti grazie a tutti ecco 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 ok perfetto per la lettera N la N è una delle lettere per cui vi ho detto che ho parato perché con la N ho scelto necklace necklace cavolo si dice il suono delle collane è che con la G avevo già un trigger ma con la N non quindi ho un paio di collane che fanno suoni leggermente diversi che mi piacciono tantissimo ecco 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 qui facciamo un po' l'on di ciò che ho preso in corea e la collana che mi hanno dato nel tempio buddista e la collana che fa in base Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'altra collana, l'altra necklace è invece fatta di conchiglie e ce l'hanno data come ricordo, regalo in un resort al mare dopo il nostro viaggio di nozze. E' il nostro viaggio di nozze. E' fatta così e ha tutte le conchiglie, vero? Grazie. 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 Thank you. Grazie. 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 dei suoni anche molto particolari, quindi vedremo, ditemi voi se aveva senso o meno questo trick andremo proprio ad esplorare un po' di suoni che si possono fare con l'olio sembra dei baci un po' di suoni che si possono fare con l'olio Grazie a tutti. Bene. Vorrei provare anche una cosa, aspettate. Allora, metto un po' di olio sul bordo del tappo. Eccolo, aspettate. Ancora un pochino, pochino, pochino. Sono sporcati i pantaloni di olio. Ancora un pochino. Ancora un pochino. Ancora un pochino. Ancora un pochino. grazie a tutti proviamo anche quest'altro olio è un pochino più scusate, denso mi sto sto guardando ok 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 così era un esperimentone di toki se ha avuto senso con la lettera B abbiamo la mia amata pigna Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Sì ok, adoro il suono della pigna per la gu, l'unica cosa che mi è venuta in mente, scusate se non è molto originale è questionario quindi andrò a farti un po' di domande su come è andato il video fino ad ora e se vuoi potrai rispondere anche nei commenti matita e intanto la ringrazio di aver accettato di partecipare a questo breve questionario di gradimento le farò delle brevi domande riguardo a questo video e potrai rispondere con un gradimento da uno che equivale a per nulla a cinque che equivale assolutamente tantissimo moltissimo e il tre invece sarà abbastanza nella media, ok? quanto la sta rilassando da uno a cinque in questo video? quanto è soddisfatto, soddisfatta dei suoni che per ora ha sentito in questo video? quanta originalità pensa che ci sia in questi suoni trovati? nel senso se li aspettava più originali, meno originali nella media? ok ok l'ultima domanda, ok? va bene quanto la lunghezza di questo video influisce sul suo gradimento? anzi, mi scusi, riformulo la domanda la lunghezza di questo video aumenta la lunghezza di questo video aumenta il suo gradimento di questo video aumenta la capacità di rilassarla oppure magari è troppo lungo ok può anche motivarmi questo foto se vuole ok si capisco è un ragionamento assolutamente sensato e cercheremo di tenerlo a mente ultima domanda da 1 a 5 quante sono le probabilità che lei andrà a riguardare questo video una seconda volta o che in generale era per riguardare qualche momento di questo video e in particolare se vuole anche specificare questa risposta magari c'è qualcosa in particolare che tornerà a vedere o tutto il video dica lei ok in particolare ok va bene io la ringrazio per aver dato le sue sincere opinioni riguardo a questo video e ogni risposta ci aiuterà a migliorare il nostro servizio nei suoi confronti per rilassarla sempre meglio per la lettera r ho parato no l'ho un po' forzata sì perché con la lettera r ho scelto la parola riso ma voi vi aspetterete di chicchi di riso ebbene no abbiamo la carta di riso ma con la g avevo fin troppi suoni da fare e con la r nessuno quindi questa è la carta di risa che fa un suono secondo me splendido che ricorda un po' il suono del fuoco che comunque si l'origine di questa carta è proprio il riso quindi dai lei ci sta e ora ci sono che ricorda un po' il riso che ricorda un po' il riso e Grazie. 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 Io adoro, 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 adoro questo suono. Per la lettera. S, 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 s. Abbiamo un po' di tiki tapping. Anche questa volta ho preso l'inglese, ma questo trigger proprio si chiama così. Sticky tapping. Ed è questo. Il tapping è caratterizzato dal fatto che le unghie sono un po', i polpastrelli sono un po' sticky, quindi un po' si appiccicano. Amo questo trigger, anche questo trigger. Strano. L'acqua. E' un po' di tiri. È un po' di tiri. Grazie a tutti 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 Vieni qui Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti